Musica Ivano Famiglietti, il ragazzo di Frigento che ha ucciso i genitori, non ricorda di aver compiuto l'orribile duplice omicidio. Il 27enne interrogato quasi per un'intera giornata ha fornito poche e confuse notizie. Ma nonostante il suo parziale silenzio emergono inquietanti particolari su quanto accaduto nell'abitazione dei coniugi Michele Famiglietti e Maria Covino che sarebbero stati uccisi giovedì, ma i loro corpi senza vita sono stati scoperti sabato in tarda mattinata. Stando ad una prima ricostruzione, Ivano intorno alle 5 di giovedì mattina sarebbe uscito in giardino per fumare una sigaretta, poi avrebbe preso l'ascia, trovata fuori dall'abitazione e si sarebbe diretto nella stanza dei genitori. Prima avrebbe colpito il padre, poi la madre, sulla testa della quale il 27enne avrebbe avvolto una bussa di plastica, un gesto che al momento non trova alcuna spiegazione. Sul corpo dei coniugi Famiglietti domani sarà effettuata l'autopsia, intanto il legale del giovane e l'avvocato Gerardo Testa sta valutando anche la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Lavorava nel padiglione Venezia del carcere di Poggio Reale, osò dire no alla camorra che comandava fuori e dentro le mura. Pasquale Campanello, agente erpino di polizia penitenziaria, cadde sotto i colpi di pistola. Ben 14 sparati da 4 persone che lo attesero sotto casa. In sua memoria il Presidio Libera di Atripalda ha istituito un premio. Lo hanno ritirato ieri presso il centro sociale di Mercogliano dedicato a Campanello, vittima del terrorismo camorristico, il procuratore Rosario Cantelmo, il parroco Don Vitaliano della Sala, il giornalista Sandro Ruotolo e l'imprenditore Massimiliano Noviello, figlio di Domenico, vittima della camorra per aver denunciato un tentativo di estorsione. Gli eroi sono le persone che quotidianamente compiono il proprio dovere. Lo hanno ribadito a gran voce i premiati. In sala il sindaco di Mercogliano Massimiliano Carullo, cittadini ed associazioni desiderosi di ascoltare testimonianze di vita. Il capo della procura di Avellino ha elogiato i giovani di Libera, in trincea, in una provincia che sembra addormentata e rassegnata, ma che da iniziative come questa può, deve ripartire per riaffermare legalità e sviluppo. Libera, lo dicevo anche prima, secondo me è una organizzazione straordinaria. Qui sul territorio è particolarmente impegnata, perché il miracolo del maglificio, i 115 passi di 15, ha un qualcosa di incredibile. è una serie di ragazzi davvero molto impegnati, ben orientati, nel senso che hanno capito perfettamente da che parte stare e che veramente sono di esempio per tanti, come dire, maggiorenni un po' più distratti, un po' più forse anche disamorati rispetto a certe situazioni. Sai, quando si perde un genitore, due cose ti possono, tu puoi reggire in due modi, o stai lì e piangi, 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 o cerchi di reagire. A me tutto questo mi dà forza, cioè questa rabbia, io sono riuscito a trasformarla, o cerco di contenerla, a trasformarla in impegno. È un premio, come dire, che veramente può andare a tutti e dovrebbe andare a tutti, cioè a tutte quelle persone che nel quotidiano, senza gesti eroici come quello di Pasquale Campanello, gesti di cui abbiamo bisogno, ma comunque tantissime persone, per fortuna, nel quotidiano praticano e insegnano agli altri la legalità. C'è una sola soluzione alla crisi del PD che si riversa sul comune capoluogo, le dimissioni in blocco dei consiglieri comunali o, in alternativa, quelle del sindaco Foti. Un commissario sarebbe in questa fase il male minore, dichiara di no preziosi in conferenza stampa, perché i cantieri sarebbero comunque portati a termine, mentre l'attuale sindaco gli fa eco Domenico Palungo di sua iniziativa non ne ha avviata una. A promuovere il sit-in di sabato è l'opposizione tutta, ad eccezione dell'Udc. I sette membri di minoranza Battista Cicalese e Giordano Spezia Arace e il gruppo di La Svolta Inizia Da Te invitano i cittadini ad esprimersi e a manifestare in prima persona. Perché ormai un sistema di potere che dura da 40 anni è talmente locurato, è talmente stanco che non ha più niente dove potersi leggere. Per cui quella di sabato è una manifestazione dove noi invitiamo tutta la città, ripeto, tutte quelle persone che ci tengono per Avellino, ci tengono per la nostra città, a venire qua sotto e discutere con noi. Non a caso non abbiamo voluto farla in un luogo chiuso, ma l'abbiamo voluto fare davanti alla piazzetta, a distante l'ingresso del comune perché il luogo istituzionalmente è più corretto dove poter parlare con i cittadini. I primi responsabili sono i propri consiglieri comunali. Allora o loro hanno uno scatto di orgoglio e dicono così non si può più andare avanti e sfiduciano il sindaco, oppure sarà la città a sapere come stanno le cose e al momento opportuno spero che non si facciano prendere in giro compromesse che non possono essere mantenute. Abbiamo la libertà di pensare, la libertà di poter decidere e chiediamo, come diceva De Gaspera, agli uomini forti e liberi di poter venire qua sotto a metterci anche la faccia, a dire io sto qua perché voglio salvare la città. Un fatto storico quasi come quello di ieri, aveva bisogno di uno scenario diverso, più condiviso. La mia solidarietà a Rosetta D'Amelio, che è quasi impedita fisicamente nel fare il suo lavoro da Presidente, ha portato a termine fino alla votazione finale, sia pure in condizioni precarie, l'approvazione della legge. Per la Campania credo che sia qualcosa di estremamente importante. Eravamo l'ultima regione in Italia a non avere una legge di riordino a rischio commissariamento, come lo siamo tuttora, e invece si fa un deciso passo in avanti verso il riordino del settore idrico in una regione che credo sia un case stati negativo per tutte le cose sulla depurazione, sulle fognature e sulla salvaguardia della risorsa di cui noi irpini sappiamo bene che adesso finalmente è una regolamentazione. Quali riflessi, Presidente, di questa legge sul servizio in Irpinia? Innanzitutto non vengono più stravolti i confini geografici dell'ambito distrettuale irpino. Quindi i comuni del Vallo di Lauro, la stessa Caposele, rimangono nel distretto avellinese beneventano. Poi ancora la governance rimane in mano ai comuni, sono i sindaci che decideranno nei consigli di distretto il piano d'ambito, quindi sono i sindaci che decideranno a chi affidare il servizio. Vengono salvaguardati i gestori esistenti, i posti di lavoro delle imprese del settore, e poi un'innovazione importante. La Regione Campania introduce la tariffa perequata, cioè significa che un pezzo di tariffa va a beneficio delle aree meno popolate come quella nostra, dove ci sono gli investimenti necessari per le reti, per un territorio fragile ed è giusto che la parte metropolitana abbia un pezzo di tariffa a favore dell'Irpinia. E poi diciamo ovviamente tutto quello che riguarda il processo d'ora in avanti che vedrà protagonista anche l'alto calore perché è l'azienda che sul territorio ha il maggior numero di comuni serviti. Esisteva una rete che organizzava e presidiava lo spaccio di cocaina ad Avellino, la conferma nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli. I giudici hanno ritenuto Danilo Volzone, capo dell'associazione dedita al narcotraffico, non di lieve entità come aveva ritenuto in precedenza il Tribunale di Avellino. Benché i traffici avvenivano su modiche quantità di stupefacenti, gli affiliati erano capaci di minacciare chi non pagava e indirizzare il mercato. Ciò nonostante per Danilo Volzone, pregiudicato ed elemento di vertice dell'associazione, difeso dagli avvocati Dario Vannettiello del Foro di Napoli e Gaetano Ofiero del Foro di Avellino, la pena inflitta non è stata quella invocata dal procuratore generale di 22 anni. Il verdetto d'Appello ha ridotto a 15 anni la pena di reclusione. A mitigare la sanzione richiesta dall'accusa due fattori, l'esclusione dell'aggravante della recidiva e la concessione parziale delle attenuanti generiche richieste dalla difesa. Anche per Angelo Volzone la pena inflitta pari a 7 anni e 6 mesi di reclusione è stata più contenuta di quella invocata dall'accusa di 11 anni e 6 mesi. Viceversa sono state accolte in pieno le richieste di condanna formulate dal procuratore generale nei confronti di Aristide Capolupo a 13 anni e 6 mesi e del Pidio Galluccio a 10 anni. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. La parola definitiva passerà poi alla Suprema Corte di Cassazione, che con ogni probabilità sarà chiamata a stabilire nuovamente se nel corso del 2012 ad Avellino esisteva un'associazione dedita al narcotraffico di lieve entità o una radicata ed organizzata associazione di medie dimensioni. Nell'uno o nell'altro caso la rete è stata smantellata dalle indagini della squadra mobile della DDA di Napoli. Processo isochimica si chiude il capitolo delle costituzioni di parte civile, tutti ammessi o quasi richiedenti. A sorpresa manca all'appello il comune di Avellino, che pure aveva manifestato la volontà di presentarsi come parte lesa nel giudizio, ma che finora non ha dato corso alle promesse. Dopo quasi quattro ore di Camera di Consiglio, il giudice per le udienze preliminari Fabrizio Ciccone ha sciolto le riserve dichiarando l'ammissibilità di circa 250 parti. Tra queste tutti gli ex operai della fabbrica che potranno invocare il risarcimento danni contro Elio Graziano, i suoi due collaboratori, i quattro dirigenti di Ferrovie dello Stato e anche il dirigente Asla attualmente indagato. Accolta la richiesta di costituzione di CGL, Will e di lotta per la vita, l'associazione di mamme di Borgo Ferrovia, l'unica delle quattro realtà associative ammesse al procedimento, sono state infatti escluse cittadinanza attiva, l'associazione consumatori e associazione italiana esposti a Mianto del Piemonte, già protagonista del processo Eternit di Casale Monferrato. I giudici hanno ritenuto che non avessero radicamento in Irpinia. L'udienza è stata rinviata il 12 gennaio. Nel processo chiederanno giustizia anche i familiari di Antonio Graziano, cugino del proprietario Elio ed ex operaio della fabbrica, morto per mesotelioma nel frattempo. Tragedie familiare di Frigento, ultimo atto. Liberate le salme, dopo le autopesie effettuate ieri sera, i funerali dei coniugi Michele Famiglietti e Maria Covino sono stati vissati per domattina alle 9.30 nella Chiesa Madre. Da stamattina intanto è stata allestita la Camera Ardente. Le autopesie hanno confermato in via generale il quadro emerso dall'esame esterno dei due cadaveri. Complessivamente sui corpi dei due sventurati coniugi sono stati inferti 15 colpi di accetta. Le ferite sono compatibili con l'attrezzo, diventata arma letale, ritrovata nel giardino di casa dagli investigatori. Un dettaglio che sembra farsi strada è che Maria, al di là delle ferite riportate, possa essere morta per soffocamento. Il suo carnefice l'avrebbe finita avvolgendole la testa con una busta di plastica. L'indiziato per il duplice omicidio resta il figlio 27enne Ivano. Attualmente ha gli arresti presso il carcere di San D'Angelo dei Lombardi, dove è tenuto sotto rigorosa sorveglianza. Agli investigatori, finora, Ivano ha detto che non ricorda niente. Manca allo Stato una totale ammissione, ma il quadro investigativo è ormai completo in ogni dettaglio. Così come lo è il movente, nel senso che non c'è un movente se non quello riconducibile alla grave condizione psichiatrica del giovane. Siamo, insomma, di fronte ad una tragedia causata da un'altra tragedia naturale, quella di un giovane di fatto incapace di indendere e di volere. Sotto questo aspetto non può che suscitare una profonda pietà umana la circostanza dei manifesti funebri in cui l'annuncio dei funerali di Maria e Michele viene data soltanto dagli altri figli. Il braccio di ferro tra il governatore della Campania, Vincenzo De Lucca e il Partito Democratico regionale è destinato a continuare, con quali esiti finali allo Stato è difficile prevedere. L'ultimo strappo si è consumato ieri sera con il baro della segreteria regionale del PD, un parto cesario che ha impegnato non poco i ginecologi del Nazareno e che lascia indovinare turbulenze già nelle prossime settimane. Ma andiamo per ordine. La nuova segreteria regionale è composta oltre che da Assunta Tartaglione, da Gennaro Migliore, Pina Picerno, Teresa Armato, Leonardo Impegno, Gianluca Daniele e Lello Topo. A parte il vice governatore Fulvio Bonavitacola, che è membro di diritto ma senza voto, non ci sono rappresentanti di De Luca. Non solo, fuori dall'organismo che dovrebbe rilanciare l'azione del partito in Campania, sono rimasti anche i riformisti di Umberto del Basso De Caro ed Enzo Amendola ed i giovani turchi del ministro Orlando. Per i riformisti lo strappo si è consumato sul nome di Federico Conte, anti De Lucchiane di Ferro, proposto da Umberto del Basso De Caro ma non accettato, probabilmente per non acuire i contrasti con De Luca. Per i giovani turchi la rottura porta la firma di Valeria Valente. Ed ora, al di là della vivace dialettica interna di partito, quali conseguenze potranno esserci sul governo della regione Campania? In apparenza si fa finta di niente, almeno in questa fase. I problemi potrebbero invece arrivare nel caso che De Luca dovesse essere sospeso per effetto di un pronunciamento sfavorevole della consulta sulla Severino. Il partito, infatti, potrebbe profittarne per imporre a quel punto un'aggiunta politica, con le reazioni che si possono immaginare da parte di un governatore sospeso, ma di fatto intenzionato a governare con i suoi metodi e con il suo programma per interposta persona. E' stato approvato dalla Commissione a bilancio del Senato un importante emendamento per la bonifica dell'ex isochimica. 9 milioni di euro complessivi per i prossimi tre anni, sei dei quali nel biennio 2016-2017. Viva soddisfazione del parlamentare erpino di scelta civica Angelo Antonio D'Agostino, che commenta, l'approvazione dell'emendamento, che stanzia 9 milioni di euro per la bonifica dell'isochimica, è un primo importante risultato che deve portare al definitivo risanamento dell'intera area di Piano d'Ardine. I 450 milioni che il governo ha destinato alla Campania per la terra dei fuochi devono servire anche a rimuovere le coballe depositate a poche centinaia di metri di distanza dallo stabilimento nel quale si scoibentavano le carrozze piene di amianto. Lo scorso 11 novembre, lo ricordiamo, D'Agostino aveva sollecitato il governo affinché accogliesse l'emendamento pro-ex isochimica presentato in commissione dal Senatore Cuomo. L'intero borgo ferrovia, aggiunge D'Agostino, necessita di un'intensa azione di risanamento che ponga fine al degrado nel quale versa, a causa di anni di incurie e della presenza crescente di rifiuti. Il governo ha dato un ulteriore segnale di vicinanza al territorio erpino, creando i presupposti affinché, in sinergia con la giunta regionale, ci sia la rinascita di un'area da sempre pesantemente penalizzata dal punto di vista ambientale, conclude D'Agostino. Anche i deputati del PD, Vincenzo Cuomo, che ha presentato l'emendamento al Senato, e Luigi Famiglietti, esprimono soddisfazione. Come è noto, l'isochimica di Avellino è una sorta di Ethernet del Sud. Nei prossimi tre anni, con questi 9 milioni di euro, si potranno cominciare i lavori di una bonifica necessaria e delicata. Resta da completare la risoluzione del nodo degli ex lavoratori. Difatti, grazie all'emendamento inserito nella finanziaria dell'anno scorso, già alcuni operai hanno potuto beneficiare del trattamento previdenziale anticipato. Ora si sta lavorando affinché si possa ampliare la platea degli amenti diritto. Nella chiesa madre di Frigento, dove per oggi è stato proclamato il lutto cittadino, si sono svolti i funerali di Maria Covino e Michele Famiglietti, coniugi uccisi dal figlio Ivano. Hanno celebrato la Santa Missa al parroco del posto, Don Pietro Bonomo, e quello di Sturno, Don Alberico Grilla, alla presenza di migliaia di persone, i cittadini di Frigento e Sturno, due comunità unite nel dolore, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza agli altri tre figli di Maria e Michele. Nell'omelia Don Pietro ha invocato silenzio, rispetto e condivisione del dolore per la famiglia Famiglietti. Dove era il Signore? Ha ripetuto per due volte Don Pietro quando è stata compiuta tale barbaria. Poi, senza mai pronunciare il nome di Ivano, ha aggiunto, sarà il Signore a giudicare chi ha commesso tale atto. Parole due, Don Pietro le ha invece pronunciate contro chi, attraverso social network nei giorni scorsi, ha lanciato accuse proprio verso di lui e le istituzioni. Cose indecorose, da vomito, ha detto il parroco, aggiungendo, chi in passato non è riuscito a soddisfare i propri interessi, avrebbe fatto meglio a stare in silenzio. Sconvolti dal dolore e composti nel loro silenzio, i tre figli di Michele e Maria non hanno mai distolto lo sguardo dalle due bare sistemate ai piedi dell'altare. Poi, insieme a parenti ed amici, hanno accompagnato i genitori al cimitero. Tra pochi giorni, mercoledì, per la precisione, scatterà lo stop ai turni massacranti dei medici ospedalieri. L'Europa ha bandito le notti che iniziano alle 20 e terminano nella tarda mattinata del giorno dopo. I medici potranno lavorare al massimo 12 ore, per poi rispettare i tempi di riposo prescritti e comunque non superare nell'arco di una settimana le 38 ore di lavoro, cui potranno aggiungersi massimo 10 ore di straordinario. Vista la carenza di personale negli ospedali, si rischia il caos. E a quanto pare soprattutto negli ospedali più grandi, perché a Solofra, Reano, Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi si viaggiava già con il freno a mano tirato per il numero esiguo di medici impiegati. Il pericolo, se non sarà possibile procedere ad assunzioni, consisterà in una riduzione delle prestazioni e un allungamento ulteriore delle liste d'attesa per visite specialistiche. L'obbligo dei manager sarà di rivedere i turni. Nel caso non venissero osservate le regole, loro in primis saranno passibili di multe che vanno dai 100 ai 3.000 euro al giorno per il mancato rispetto del riposo e tra i 200 e i 10.000 euro per la violazione della durata del lavoro settimanale. L'obiettivo della legge è avere medici che, lavorando di meno, siano più freschi e riposati. I malati rischiano comunque di pagare lo scotto di un impoverimento dell'assistenza. Il manager del Moscati, Pino Rosato, in queste ore ha chiesto una rendicontazione delle modifiche necessarie per organizzare i vari dipartimenti. Riduzione di posti letto e tempi più lunghi delle liste d'attesa senza soldi né personale saranno inevitabili. Il Tribunale Civile di Napoli rinvia la decisione nel merito del ricorso presentato da De Luca contro la sospensione dalla carica per effetto della legge Severino. Dopo la bufera dell'inchiesta che ha coinvolto la giudice Anna Scognamiglio, il governatore, il suo ex capo staff ed altre persone indagate a vario titolo per concussione indotta, il Tribunale Partenopeo ieri ha deciso di non decidere, non per volontà propria. Dopo circa sei ore di Camera di Consiglio, la prima sezione composta dal presidente Carlo Imperiali, il relatore Umberto Antico e il giudice all'atere Roberta Di Clemente ha motivato il rinvio per la mancata trasmissione del fascicolo da parte della Corte di Cassazione. In buona sostanza, il Tribunale ha affermato di non potersi pronunciare sulla eventuale revoca. La Cassazione è noto alle crona che aveva stabilito che fossero i giudici ordinari e non il Tar a doversi pronunciare. Un rinvio di natura tecnico-burocratica che ha prodotto due effetti. Passare nuovamente la palla alla Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla Severino, deciderà le sorti di De Luca. E l'altro effetto è proprio quello di consentire al governatore di restare in sella in attesa di sviluppi. Il Tribunale di Napoli ha rinviato al 17 di dicembre la nuova udienza di merito. Il governatore era assistito ieri dai legali Brancaccio e Lentini. Oltre all'avvocatura dello Stato, in udienza si sono costituiti anche il Movimento 5 Stelle, SEL, e un gruppo di consiglieri di centrodestra oltre al Movimento Difesa del Cittadino. Sotto l'albero per De Luca arriveranno novità. Questo è certo. Buone o cattive notizie dipenderà dai pronunciamenti di Tribunale di Napoli e consulta.